La nostra bambina sta facendo il bagno! È ora di lavarsi i capelli! Mamma! Lo shampoo mi è entrato negli occhi! Scusami, scusami! Ho un'idea! Prendi un berretto Poi toglia la parte superiore E mettilo in testa! I suoi occhi ora saranno al sicuro! Oh no! Il suo lecca-lecca! Stai bene? Mamma, guarda! Aspetta un attimo! Ok! Ne prenderò un altro! Dove sono tutti lecca-lecca? Non lo so! Smetti di mangiarli! Ok! Non preoccuparti, tesoro! Te ne farò altri! Prendi uno stampo in silicone Mettici dentro dei bastoncini E riempi gli stampi di succo! E ora congelali! Ecco qui! Lecca-lecca fatti in casa! Sì! Proviamoli! Posso prenderne uno? Può? Sì! Allora va bene! Grazie! Le ragazze dormono in tenda! Cosa sono questi rumori? Mamma! Eh? Ho paura! Vieni qui, tesoro! Questa torcia ci aiuterà! No! Non aiuta! Idea! Prendi un pezzo di carta e li taglia delle stelle! Poi usa la carta per coprire la torcia! E appoggiala da qualche parte! Ora la tua tenda ha delle stelle dentro! Buonanotte! Le ragazze sono andate al parco! Mamma! Mi scappa la pipì! Adesso! Puoi farla dietro al cespuglio! Ok! Io ti aspetto qui! Ehi tu! Ops! Questo non è un bagno! Mamma! Buonasera! Mi dispiace tanto! Stai bene? Ho un'idea! Possiamo usare questa sedia da campeggio! E un sacchetto della spazzatura! Ecco qui! Mamma! È perfetto! E non dimenticare di coprirla! Buonasera! Buonasera! Non ho detto nulla! Ha funzionato! Andiamo! Arnold sta mangiando l'anguria! Ne voglio un po' anche io! Ma è finita! No! Non piangere! Shhh! Cos'è successo? Voglio l'anguria! L'hai mangiata tutta! Ti dispiace! Vai via! Ok! Come ha potuto? Non preoccuparti! Prenderemo un po' di polvere di gelatina! Un bicchiere! E un po' d'acqua! Mescoliamo tutto insieme! E poi... Versa tutto nella buccia dell'anguria! Ora tagliala! Ed ecco qui! Gelatina di anguria! Oh! Posso averne un po'? No, caro! No! Vi pagherò! Ok! Grazie! Miam! Siliziosa! La nostra bambina sta mangiando un ghiacciolo! Ehi, tesoro! Oh! Oh! Si sta sciogliendo! Oh no! Dammelo! Ti devo pulire ora! Ma io voglio il mio ghiacciolo! No! Ho un'idea! Faremo dei ghiaccioli! Metti delle caramelle in uno stampo! Poi mettici della Sprite! Ora inserisci dei bastoncini all'interno! E uso un po' di ghiaccio per raffreddarli! Pronti? Ecco qui! Delizioso! Puoi anche bere la parte che si scioglie! Provala anche tu! La nostra bambina sta giocando! Ma... Ha colpito il computer! Oh no! Oh no! Cos'è successo? Tesoro! Fermati! Ma perché? Perché? Ehi! Ero... Occupato! Sì, certo! Dammi! Aspetta un momento! Posso omettere il più ribosso a tutti i mobili! Ora anche se tua figlia buttò giù qualcosa, non si romperà! Buongiorno ragazze! Qualcuno è un po' puzzolenti! Abbiamoci i denti! No! Sì? Non voglio! Dove stai andando? Torna qui! No! Ho un'idea! Ci metterò dentro un po' di dentifricio! E poi lo metto qui per raffreddarlo! Ora aspettiamo! Voglio provare! Tieni il tuo spazzolino! Grazie, mamma! Non c'è nessuno! Allora posso mettere dei palloncini d'acqua nelle scarpe della mamma! Adesso mi nascondo! La piccolina ha fatto uno scherzo! Metterò le... Ora i miei piedi e le mie scarpe sono tutti bagnati! Sei stata tu? Vieni qui! No! Come faccio ora? Ho un'idea! Cos'era questo? Devo solo metterlo sulla scatola delle scarpe! Voglio farlo di nuovo! Ma non riesco ad aprire questa scatola! Scherzetto! Non è giusto, mamma! Le nostre ragazze stanno montando la tenda! Tesoro! Sono qui con te! Ma l'orso ha preso solo la tenda! Non capisco! Stai bene? Sì! Ma come facciamo adesso? Oh! Idea! Prendi dei pezzi di legno! E poi una corda! Tieni, mamma! Ora lega i pali insieme con la corda! Assicurati che siano ben fissati! È un'altra cosa! Avvolgi della pellicola trasparente intorno! E poi apri l'ingresso! Prova! L'adoro! Sì! Perfetto! Conchiamo il lettino gonfiabile! Vieni, tesoro! Ok! Che bello! Oh no! Si è sgonfiato! Ma come? C'è un buco! Ho un'idea! Usiamo dei sacchetti di plastica! Riempili d'aria! E poi riempi la tenda! Prova, tesoro! Mi piace il sacco! La mamma sta innaffiando l'aloe vera! Mamma! Mi fa male la faccia! Tesoro mio, fammi vedere! Che cosa faccio? Idea! Usiamo l'aloe vera! Prendi una foglia! Ora spremi il gel di aloe! E poi applicalo sulla faccia di tua figlia! Ehi ragazze! Ciao! Oh! Aiuto! C'è cascato! Ehi! È ora di togliere la maschera di aloe vera! Come va? Bene, mammina! Ha funzionato! Ehi, mamma! Puoi giocare con me? Non ora, tesoro! No! Ma mamma! No, tesoro! Forse... Posso darti il mio computer! E anche dei biscotti! Ok? Ok! Ma tutte le briciole stanno cadendo sulla tastiera! E sulla sua maglietta! E sul divano! No! E ora? Non funziona! Ho bisogno di uno slime! Lo useremo per raccogliere tutte le briciole sulla tastiera e sulla maglietta! Voglio provarci! Wow! È super pulita ora! Possiamo giocare! La nostra bambina sta facendo i compiti di matematica! Non so la risposta! Proviamo! No! Ho un'idea! Scriviamo i numeri su un pezzo di carta! E poi trasformavolo in disegni! Che ne dici? Dammi un pezzo di carta, mamma! Voglio provarci anche io! Sta funzionando! Mamma, guarda! Bello! Proviamo di nuovo! Ce l'ho fatta! La nostra bambina sta giocando con i lego! Ho un regalo per te! Sì! Scorpe! Non le voglio! Ma perché? Dai, provale! No! Dai! No! Ma perché? Le metto io! No, mamma! Non le voglio! Cosa posso fare? Forse posso usare i lego! Coprirò le scarpe con i lego! Wow! Che belle! Voglio provarle! Le adoro! Non le toglierò mai più! Grazie, mamma! Ho bisogno della carta igienica! Un ragno! Era uno scherzo? Butterò via questo disegno! Che idea! Metti un elastico per capelli attorno al rotolo di carta igienica! Farò un altro scherzo! Non ci riesco! Mi dispiace! Metterò questo vestito oggi! Mamma! Che avvolgo nella carta igienica! Molto divertente! Ora devo togliermela di dosso! Che idea! Userò degli elastici dei ganci! Attacca i ganci sulla porta! E poi agganciaci gli elastici sopra! Ora tua figlia non può più entrare! Mamma! Non è giusto! Ha funzionato! Papà, mi hai rotto la sedia! Quindi il grafico dice... Papà, l'hai rotta! Oh no! Mi dispiace tanto! Quanto costa una nuova? Quanto? Tesoro, dobbiamo aspettare il mio stipendio! Sono arrabbiata! Aspetta! Ne farò una più bella! Non è carino! Che grazie! Papà, hai fatto un ottimo lavoro! Prendi questo, Simba! Oh no! Ho bisogno di fare la pipì! Mamma! La porta è chiusa a chiave! Aiutami! Cosa sta succedendo? Devo andare! Dove? Questa porta è davvero difficile da aprire! Va bene! Oh, aspetta! Mi metto un elastico alle maniglie della porta! Bloccherà il meccanismo! Perfetto! Puoi aprirla ora? Che facile! Bel trucco, mamma! Sì, è stato un bel trucco, tesoro! Squalo, eccomi! Acqua! Voglio l'acqua! Non ci arrivo! Non lo so! Oh, no, no! Il mio computer! Aspetta un attimo! Guarda questo simpatico distributore d'acqua! Sembra un piccolo porcellino! Questo dovrà essere aggiustato! Questo dovrà essere aggiustato! Che bello! Ok, ora stai ferma! Cheese! Mamma, mamma! Scusi! Non si preoccupi! Tesoro, devi sederti qui e stare immobile per un attimo! Mamma, mamma! Mi spiace tanto! Che da? Vieni! Mamma, si seda qui! E tenga questo lenzuolo in mano! E tu? Ti siederai sulle ginocchia di tua mamma! Sorridi! E... Cheese! Bellissime! Sono venute benissimo! Grazie! Oh, che belle foto! Ottima idea, fotografo! E' un unicorno! Evviva! Sei tatuata proprio come tuo papà! Forte, vero? Oh no! La mamma è qui! Papà, aspetta! E' colpa tua, vero? Sembra un camaleonte! Guarda l'ora! Vai in camera! Certo! Cosa posso fare ora? Che idea! Bisogna di un po' di nastro! Ai! E' venuto via! Dai, ripuliamo tutto! Ti aspetto fuori! Ma i miei tatuaggi! Ehi, tesoro! Stiamo arrivando! Apri gli occhi! Esprimi un desiderio! Voglio mangiare la torta! Ai! E' troppo pericoloso! Farò un coltello di cartone! Wow! Sembra vero! E taglia come un vero coltello! Wow! Bellissime! Mamma! Mamma! Che cosa? Il mio orsecchiotto! Ok, tieni! Mamma! Mamma! Che cosa? Il mio pop-it! Ecco! Mamma! Mamma! Che cosa? Mi annoio! Hai mai provato a fare degli animali con queste patatine? Wow! Grazie! Finalmente posso dormire! Che succede? Oh mamma! Un ragno! Abbiamo fatto un bello scherzo alla mamma! Ecco il tuo panino, tesoro! Pronto? Sì! Torno subito! Finito! Ha lasciato di nuovo la crosta! Che spreco! Aspetta! Ho un'idea migliore! Arrotola la crosta in questo modo! E mettila su uno scherino! Poi immergela nel latte e cospargela di cacao! Poi mettila nel forno! Ed ecco qui! Un delizioso dessert! Tesoro! C'è il dessert! C'è il dessert! Che buono! La 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 la! Bello! Ah! Ho finito i fogli! Lo so! La schiena di papà è bianca! Spero che non si mi accorga! Ehi! Che stai facendo? Tesoro! E' stato il pennello! Ma era nuova! Ma aspettate! Sembra che papà sarà la vostra tela! Come al solito! E' divertente! Finito! E' simile ad una maglia che indossavo da bambino! Grazie! Benissimo! Sei bello papà! Papà torna al suo angolo! E noi guarderemo la tv! Mamma! Cosa c'è? C'è un concorso d'arte! Ed è domani! Aspetta! Aspetta! Ho un'idea! Prendiamo un pezzo di carta! Versiamo un po' di succo di limone! E ora disegniamo! Poi mettiamo sotto una fiamma! E guarda! Si vede l'immagine! Cata! Ecco! Molto bello! Grazie mamma! Buonanotte! Buonanotte! Cosa state facendo? Sarà in ritardo! C'è ancora tempo! Guardati! Come un bambino piccolo! E anche tu! Cambiatevi e fate veloce! Pronti? Si parte! E ora ho un po' di tempo per me! Ho in mente qualcosa! Ecco qui! Aspettate! Vi ho preso qualcosa! In questo modo non vi sporcherete! Soprattutto papà imparerà a mangiare come un adulto! Perfetto! E la ragazza e il suo amico fanno una passeggiata insieme! Ai! 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 Cos'è questo campo minato di Lego? Scusa mamma! Devi ripulire tutto! Signorina! Usiamo un calzino per aspirare tutti i blocchi Lego sul pavimento! Wow! Fatto! Pulito come prima! Se non ha mai usato questo trucchetto prima, vai subito a comprare dei calzini! Oh! Che disastro! Ecco! Perfetto! Che cosa? Di nuovo? Li avevo appena sistemati! Vabbè! Ora va molto meglio! Cosa? Così rimettere in ordine sarà divertente! E punto! Cosa stai facendo mamma? Voglio farlo anche io! Sì tesoro! Io vado! Oh! Basket? Era il migliore della mia classe! Wow! Sì! Dommi il cinque! Sono un genio! Sì! La nostra bambina ha sete! Oh! Il bicchiere è pieno! L'acqua sta uscendo fuori! Oh! Oh no! Basta! Vieni qui! Dammi il bicchiere! Questo distributore d'acqua è un po' troppo grande per te! A te serve uno più piccolo! Wow! E' perfetto per i bambini! Che cosa? Cos'è questo disastro? Pulisci tutto! Ok! Mamma! Papà! Mi sono fatto male! Oh no! Non posso guardare! Quanto sangue! Aiuto! E' ora di finire il vino! Metti il bicchiere sopra una candela per togliere l'ossigeno! Poi passa il bicchiere sopra la scheggia! Voilà! Fatto! Che grazie mamma! Mi stavo sentendo male! E' ora di andare a letto! Buonanotte cara! Chiudi l'armadio mamma! Ok! Fatto! Ma tutti sanno che i mostri escono quando è buio! Cos'è successo tesoro? Mamma! Ho paura! Paura dice? So cosa fare! Metterò una lampada qui! I mostri saranno troppo spaventati per venire ora! Buonanotte! Buonanotte! Le nostre ragazze sono all'aeroporto! Eh? Ma il loro aereo è in ritardo! Oh no! Mamma! Sono stanca! Voglio dormire! Lo so tesoro! Oh! Ho un'idea! Userò la mia valigia per fare un letto! Straiati qui! Caldo e confortevole! Svegliati tesoro! E' ora di andare! Vuoi il cuscino? Sì! E' ora di andare a scuola! Siamo in ritardo! Ma sta piovendo! Oh no! Non possiamo andare così! Oh no! Il nostro ombrello è tutto strappato! Oh! Lo so! Userò la tanda della doccia! Oh mamma! Facciamo un poncho! Wow! Mi piace! Ora siamo pronte per uscire! Sei pronto? Vai! Porterò con me tutti i pop-it! Ma ho bisogno di svuotare la borsa di mamma! Ok! Ora posso mettere i miei pop-it! Tesoro? Cosa stai facendo? Non c'è tempo! Piccola! Posso prenderla? Idea! Ho fatto una borsa di pop-it per te! Wow! E' bellissima! Ora abbiamo entrambe la borsa! Va bene ragazze! Andiamo! Ehi follower di Kaboom! Non è stato divertente? Cosa pensi del nostro video? Hai delle idee sul prossimo video? Faccile sapere qui sotto! Se ti è piaciuto il nostro video non dimenticare di mettere mi piace ed iscriverti al nostro canale Kaboom per altre incredibili storie come questa! Grazie!